Salve bella gente qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Walking Dead Come mi hanno ridotto la clem, il pugno di Troy è stato fatale Mentre qui è giunta la disperazione, Carver è riuscito a seminare il terrore in mezzo a noi E ci ha anche detto che stasera non avremo mangiato, niente per il nostro stomaco Quasi quasi era meglio essere vaganti, almeno si aveva cibo Doveva essere più prudente Luke Ma dov'è? Dice che si può riuscire dal pen, se possiamo riuscire il sistema di PA Il secondo che si può riuscire, si può riuscire a riuscire a riuscire E' fantastico, non è fantastico Ma cosa stai parlando? Ma aspettate Siamo sicuri di poterci fidare di Bonnie E ora mi sono fatti Possiamo anche confiare Bonnie? Non abbiamo ragione di non confiare Se lei fosse fatti, saremmo fatti Ma oggi, oggi è rischio E' vero, dovevamo andarcene stanotte E se lo dice uno com'è Nick Ma gli hanno tolto via l'orecchio Ma prima non ce l'aveva così l'orecchio Se l'hai mangiato Carver allora Un'orecchio ha il gusto di cioccolato Non possiamo aspettare che il tuo bambino esploda Ok Ma un attimo Dov'è Kenny? Dov'è finito Kenny dopo quello che è successo Ah no Deve sopravvivere E' la mia unica ragione di vita Kenny Kenny è la mia linfa vitale No Kenny così Moribondo a letto No Aspettate ma posso vederlo Devo vederlo Devo vederlo E' il cieco E' diventato cieco E' quello che mi sta Un Kenny cieco non si può vedere E lui di certo non si vedrà Stiamo scherzando Stiamo Lasciare Kenny Il bambino Kenny e io sono solo qui Silenzio Non si abbandona Kenny Regola numero uno del gruppo Mai abbandonarlo Se ha la cappa all'inizio del nome Non si abbandona Sì Lasciamo Lasciamo indietro le persone Avete visto Kenny non si arrende mai Grandissimo Benissimo Beh almeno non è totalmente cieco Siamo il gruppo dei menomati Uno senza occhi Uno senza orecchio Troppo io quella ferita Ormai senza volto Va bene dai E' stato bravo Kenny Si merita un abbraccio E solo lui se lo merita Anche se abbandonato lì Dimentichiamoci il passato Questa volta Kenny Si è dimostrato un vero uomo Stanotte Via da questo impero di merda A Parker's Run Si Non so neanche dove Dopo Dopo quello che ha combinato Luke e anche Carlos Non so se lo so Vabbè fidiamoci ancora Non fatevi beccare stavolta Signori stanotte si parte Bene Le cose si mettono bene Mi serve una spina Ma stiamo scherzando Andiamo Basta Si va Bisogna fare le cose con coraggio Oh no L'ultima volta che sono andata lì sopra Ok Ripeti quello che ha detto Ripetimelo un secondo Voglio un attimo Ok Si Si Va bene Va bene Va bene Puoi ripetere No vabbè Grazie Lee Spider Clem se ne va Vivo morto te lo porterò Però mi sa morto Più che vivo Dopo come l'ho visto la scorsa volta Alvin Tutto rosso Sembrava una fragola Pareva Va bene Va bene Questa volta però non falliremo Questa volta non ci sgameranno Parola di Clem Ok Carver non c'è Alvin Ok Ha detto di portargli Alvin vivo Alvin Vieni qua Vieni qua Ma come lo porto poi C'è Ti prego Svegliati È crepato Ma è vivo o è morto Voglio saperlo Alvin Ah aspettate le mele Se potessi avvelenargli una mela Tipo biancaneve I sette nani Sarebbe una bella cosa Ma no Sistema di amplificazione Ha detto Ok io lo attivo Ci proviamo Ok Va bene Attiriamo questi vaganti Sarà la fine anche per noi Che carver se se ne sia accorto Ok con calma Qualcosa non va Ovviamente Perché Perché da quando in qua le cose vanno bene in Walking Dead Tutto costa fatica Sento che carver sta per arrivare Lo so Ho questa sensazione terribile Sì Sì Grande Bonnie ti prego Fai il tuo lavoro Ho uno zombie di nome Alvin Ma stai bene Ma stai bene Cosa sta cercando Allora sparagli con quell'arma piccola Carver appena entra Ehm Dobbiamo andare Anche se non ce la farà mai Quello stato Come farà Rebecca senza di te Un vero eroe sa quando arrendersi Grande Alvin Fai fuori carver da parte mia Anche se devo farlo fuori io Cavolo Speriamo che sia una bimba forte come Clem Vabbè 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 ha fatto bene Da una parte carver aspetta a me Aspetta a me Sarà una bambina vedrai Una nuova Clementine nascerà E spero che sia la figlia di Alvin Non di Carver Se no devo farla fuori Oh no no Qui c'è la terza guerra mondiale Qui fuori ormai A dove si è nascosto il Caravaggio là Eccolo lì Questa volta ve l'ho detto La lezione Sta arrivando Carver E ti arriverà in testa E ti piomberà dall'alto E Kenny ti farà un altro occhio L'orbita fuori Te la farà partire Ma sparategli Ah ho capito Volete fargli Clem Perché non è Alvin con te? Onde è lui? Carver è Eh sì Alvin è morto da eroe Mi dispiace Ecco Gli occhi di Clem Parlano Rebecca Io sono Oh Dio Io sono molto scusato Prendi Rebecca Rebecca Mi dispiace Vorrei soffrire Tantissimo Per tutto quello Che hai fatto Legalo Sparagli e basta Oh Benissimo Vedo che Cagli Ho capito Scusate ragazzi Ma qua Ci vuole una Bella vendetta Cos'è che avevi Fatto al mio occhio? Mira Kenny Vendichiamoci un po' Ecco Half-Life Ci insegna qualcosa Dottor Gordon Freeman È tornato Half-Life 3 Confirmed Succederà Succederà lo so avete tutti chiesto la morte di carver nei commenti ora mi sa che la vedrete sono stata molto cattiva però mi aveva detto lui che doveva essere una donna a forte un pastore come te mi dispiace cosa devo fare devo restare non so cosa fare per il che me ne sono andato quella è una possibilità no perchè se si faceva brutto non volevo mostrarvi una scena troppo crudele ma ma ce la vediamo lo stesso la scena mi sa Clement non la vedrà ma no ma no vabbè scusatemi ragazzi alla fine non so perchè ho deciso così forse perchè non volevo far sembrare Clementine veramente troppo cattiva se no però possiamo sentire no tranquilla questo è il vero Kenny tranquilla che questo è il vero Kenny si alla fine aspettava lui la giustizia diciamo è lui che si è preso più volte da carver cavolo di però adesso contro un miliardo di zombie dobbiamo fare veramente come i 300 siamo i 300 contro l'invasione dei persiani da soli bastardi non vi è bastata una volta ah le budella le budella abbiamo ancora un asso nella manica ho sentito che le budella ti fanno ringiovanire se te le spalmi come una crema una volta usciti di qui fabbricheremo creme di budella e diventeremo ricchi in questo mondo ringiovanisce Sara mettite poi dobbiamo dai l'ho già fatto una volta doccia un asciampo mi spiace Sara ma è questo il vero mondo il mondo puzza e se non stai tranquilla un altro sberlone guarda che bella vai grazie Carlos con le tue dita viscide oh Troy oh Troy perché non sembra il momento sbagliato sto qui ma ha una brutta fine sembra che abbia paura però che questa paura lo fregherà aiuto cosa fa quello perché noi siamo spalmati adesso e lui non ha la crema non fare rumore abbiamo appena sparato a Troy la più bella bellissima bellissima cioè questa ha completato quella che non abbiamo visto di Carver bellissimo una bella pallotola lì in mezzo ok benissimo ragazzi c'è quello che mi spalmati mi ricorda quella volta che ero insieme a Lee che mi portava in mezzo a centinaia di zombie ma non ci sparano a noi perché se magari pensano che noi siamo vaganti adesso per favore non sparateci per favore ce l'ho io Sara ce l'ho anche a me l'abbraccio l'abbraccio ah no 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 tranquillizza sì Sara 종itta stai che corri corri basta ormai corri è finita devi correre ok 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 Se dicevo stai zitta quella là non stava zitta Bastardi Mi avete tolto tutto Mi avete tolto tutte le famiglie del mondo Basta ogni volta anche Carlos Un po' lo diavolo ma non si meritava Bastardi Questa cu È per lì Questa qui invece è per l'occhio di Kenny No Stanno morendo tutti Che buona questa mano Chi lo sente Kenny adesso Devo tagliargli il braccio Devo tagliargli il braccio Devo tagliargli il braccio Mi spiace Mi spiace Se no sei fregata Sei fregata Però non sopravviverà Forse Cavolo Ah questa puntata ha fatto male Mamma mia questa puntata La prossima volta non voglio neanche saperla Sara è sparita adesso Sì ma queste scene ogni volta Questa mi rimarrà impressa anche stanotte Cioè come faccio a dormire oggi Ai 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 Va bene ragazzi Moriranno tutti L'ha detto lei Ho visto Bellissimo Ah comunque almeno Nell'ultima scelta che pensavo di aver fatto una cavolata enorme Siamo stati nella maggioranza Chi non l'avrebbe fatto in quella situazione Poi avevamo anche visto che Reggie si era salvato Quindi se tagli subito Dovrebbe funzionare Il problema è che La moglie di Kenny Non l'ho vista Non l'ho vista in questa preview Speriamo Non ci resta che sperare E vedere il prossimo episodio Comunque a parte questo Molto molto bello Forse anche uno dei più belli Molto crudele Ma uno dei più belli Quindi io spero che questo episodio di Walking Dead Vi sia piaciuto E noi Ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti